Buonasera, grazie di essere venuti, festeggiamo insieme il mio ottavo romanzo, tanti, pochi, ma insomma, per adesso lo lascio qua. Però, mi sono grato per essere qui e festeggiare con me. Questo è un libro che io ho scritto con grandissimo piacere e divertimento, me lo covavo dentro da un po' di tempo. L'inizio di questo libro è proprio un'idea semplicissima e piccolissima, che non vi dico perché preferisco che la scopriate leggendo il libro, ma che mi è venuta un giorno che ero in un museo, anche piuttosto annoiato e anche stanco, mi sono seduto su una specie di soffalino che c'era lì, più che altro guardavo la gente, però poi ho cominciato a guardare questi quadri e in questa specie di torpore della stanchezza spesso vengono fuori le idee migliori. E niente, mi è scattato questa piccola cellula da cui poi è nato Mr. Gwynn. Però poi, come spesso succede a me, mi tengo dentro questi piccoli pezzetti di mondo che non so nemmeno bene io perché mi chiamano. Insomma, è come fossero delle scintille rispetto a tutto il resto del mondo che vedo passare. Per cui li piglio, li metto in testa, poi me li scribacchio nei miei taquini, che poi ho il panico di perdere, queste cose qua. E poi me li tengo anche per molto tempo dentro. E questo qui l'ho tenuto con grande gratitudine, soprattutto nel periodo in cui ho scritto Emmaus, che è un libro che spero che molti di voi abbiano letto, perché è un libro che sta nel mio cuore, che però è un libro difficile e anche sgradevole da scrivere. Forse più che da leggere, ma insomma da scrivere per me, mi entusiasmava farlo, volevo farlo da anni, l'ho fatto perché dovevo e perché volevo, ma diciamo che la prassi quotidiana di quel libro lì era un lavoro che alle volte mi feriva anche, insomma era una cosa un po' duretta. E mentre scrivevo Emmaus sognavo di scrivere Mr. Gwynn. Tant'è che a un certo punto anche proprio mi era venuto in mente di farne dei pezzettini, tanto per... poi non si può fare, in realtà quando uno entra in quell'ossessione lì è meglio che ci resti. Però poi andavo a dormire la sera e nella testa mi rigiravo Mr. Gwynn. E quindi è un libro che mi sono scritto a me con molto piacere. Quando scrivevo Emmaus, che è un libro cupo per quanto possa essere cupo un libro mio, mi rendo conto che altri sono molto più bravi a scrivere libri cupi, ma insomma per la mia misura è un libro molto cupo. E comunque nella mia immaginazione io ho visto tutte le singole scene di quel libro in bianco e nero, ad esempio. E in un bianco e nero anche piuttosto contrastato, un po' accuminato. E mentre giravo sto film in bianco e nero, per così dire, avevo in mente ben chiaro una certa luce, diciamo così. E l'associavo spesso a questo inizio di storia che avevo nella mia mente. I processi creativi sono diversi per tutti. Io ho anche una scuola ma non insegniamo come ti nasce un libro nella testa perché ognuno ha i suoi sistemi. Iniziamo altre cose che esistono ma quella non esiste. Però in me ad esempio nasce da questi piccolissimi punti di mondo che vedo e che non mi lasciano in pace. Mi si attaccano addosso e non mollo più. E poi ho questo piacere di vivere con queste piccole cellule che si moltiplicano, non da sé perché niente si muove da sé, ma con la voglia mia. Allora incominciano ad accendersi un dialogo, un embrione di personaggio, ma che sono staccati. Solo quando poi uno si mette al tavolo da lavoro, poi mette tutti insieme e nasce il libro. Però c'è questi pezzettini in più che si compongono. E una delle prime cose che io ho conosciuto di questo libro era una forma di luce. Adesso non so spiegarmi proprio nei dettagli, ma insomma sapevo che sarebbe stato un libro illuminato in un certo modo. E poi mi è piaciuto anche vedere che quando mi sono messo a scriverlo, la luce proprio fisicamente, in questa storia c'è anche una sua componente. È uno dei personaggi, se volete, questa roba della luce. E infatti, ad esempio, queste lampadine qua, che sono qua, non sono per illuminare me e fare la star, ma sono lì perché un personaggio che mi è anche particolarmente caro di questo libro è un vecchio artigiano un po' scontroso che in un angoletto di Londra fa questo mestiere strano che è fare lampadine a mano. Le fa una a una, lui. Le inventa. E questa roba qui della lampadina è rimasta nel libro. Il personaggio è un personaggio che nasce come un personaggio secondario, poi mi piaceva, allora non sono riuscito a farlo fuori e volevo che ci fosse. E infatti compare anche nelle ultime pagine, che sono poi sempre importanti. E allora fisicamente, anche nel libro, poi è arrivata questa roba della luce, vedete come i meccanismi sono strani, no? Potrebbe venire in mente di tutto, no? Mi viene in mente uno che fa lampadine. Evidentemente avevo questa voglia qui di luce, che spero che sia una cosa che vi regalerà questo libro. Cioè non vi regalerà perché lo pagate non so quanti euro, ma insomma. Però insomma io ve lo regalo. C'è questo che mi piace. Mi piace il fatto che è un libro, si ride anche ogni tanto, ma è un libro sorridente. Cioè lui sorride quasi sempre, ecco. Anche quando è un po' malinconico, però c'è una specie di... È una cosa a cui tengo molto, che spero che voi sentirete poi a casa vostra o in metro dove lo leggerete. E un'altra cosa che... vi dico le cose che mi piacciono, quelle che non mi piacciono in questo libro non ve le dico. Invece questa... un'altra è legata a lui, a Jasper Gwynn, che è il personaggio apparentemente principale di questa storia, che è uno scrittore che a un certo punto smette di fare il suo mestiere, diciamo così. Lui ha un modo di camminare fisicamente, ma soprattutto di vivere la quotidianità e poi anche proprio se stesso, che non sto qui a descriverlo, a definirlo, ma un tratto però importante. E cioè lui ha una specie di passo suo nel fare le cose, che è un passo che si potrebbe dire è un passo lento, però come vedrete dal libro c'è lentezza e lentezza. Cioè quando mio figlio cammina lento, mi rompe le balle, dico eh ma... Ma non è quello, è come dare ascolto a tutto quello che c'è, per cui ogni passo è pieno e allora ogni passo è lento. E lui si muove nella vita come questo libro si muove nella scrittura, che è una cosa che a me piace molto quando leggo i libri, quando la storia e la forma della storia, il colore, il gusto della storia hanno una coerenza, no? Cioè sono proprio un blocco unico. E questo libro, che non ho scritto con lentezza, perché l'ho scritto abbastanza velocemente, ma la lingua ha un passo che è molto simile a quello di Mr. Gwynn. E questa roba è una roba che io amo perché penso che sia una delle cose che noi cerchiamo nei libri, in generale, nei libri belli, diciamo così mi spingo fin qua. Cioè che i libri ci danno idee, insegnamenti, divertimento, risate, pianti, eccetera, ma sempre i bei libri ci danno anche un modo di stare nel tempo, cioè loro decidono una velocità, diciamo. Libri scritti in maniera mediocre, la velocità la scegli tu quando leggi. Un libro scritto bene, lui decide a che velocità leggi. Noi abbiamo dei margini, anche leggendo semplicemente in maniera silente, da soli, noi possiamo leggere a diverse velocità. E ci sono dei libri che immancabilmente, dopo una pagina, decidono per te a che velocità leggi, pensi, ti emozioni. E questo è un tratto dello scrivere libri e del leggere libri che io adoro, perché è una vendetta contro la vita quotidiana, che invece ti direbbe c'è quel tempo lì, non c'è niente da fare, vai a scuola alle 8, devi andare a scuola alle 8, hai 50 anni, hai 50 anni, la vita è così. Ma poi c'è tutta una serie di espedienti con cui noi la freghiamo e stabiliamo temporalità diverse. Quando, ad esempio, ci amiamo con qualcuno, il tempo è diverso. C'è una frase di Proust mostruosa, di mostruosa esattezza, che però non so citare precisamente, ma dice più o meno così. C'è il tempo che ha diversi modi di accadere. E poi dice questo. Le passioni lo dilatano. La noia lo comprime, l'abitudine lo colma. Punto. Stop. La vita in sette parole. Però è così, cioè noi allarghiamo e restringiamo, allarghiamo e restringiamo. Quando siamo stanchi andiamo al cinema e lo fa qualcuno per noi. Se è bravo, noi non sentiamo praticamente la differenza, cioè scivoliamo dentro quel suo tempo lì. Io questa è una cosa che, quando mi accade leggendo libri, proprio mi alzo, tolgo il cappello. Mi ricordo una volta che mi è successo, per non citare i grandissimi che tutti hanno questa roba, ma per citare un esempio invece molto più umano, normale, domestico, mi è successo con uno scrittore che a me piace, italiano, che si chiama Davide Longo. Lui ha scritto un libro angosciantissimo, che si intitola L'Uomo Verticale. E una sera mi è accaduto questo, che ero a letto, lo leggevo, e per lì non mi sono accorto di molto, però insomma lo leggevo. Poi dato che è un libro veramente molto angosciante, molto bello ma molto angosciante, non riuscivo proprio a smetterlo e dormire, perché poi chissà che sognavo. E allora finisco il capitolo, lo poggio lì, prendo Tex e mi metto a leggere Tex. E dopo due pagine mi sono accorto che leggevo Tex a una lentezza, che era la lentezza di Longo. Fai fatica perfino a uscirne da certi libri e al loro passo. E mi piacerebbe aver ottenuto questo effetto con Mr. Gwynn. Il passo è anche costruito a passi. Questo è un libro che mi è piaciuto scrivere con questa forma di capitoli non troppo lunghi, anche molto simili per lunghezza, come fosse un ritmo regolare. E per quattro quinti del libro voi procedete alla stessa velocità e anche la storia procede, è come facesse delle mosse sulla scacchiera, ma con una mano molto attenta e molto lenta. Adesso detto così sembra la noia bestiale. No, è come il camminare di quello che riempie i propri passi di tutto. No, è tutto tranne che è un libro noioso. Poi vi può anche non piacere, siete autorizzati. Però è costruito con questa idea di mettere un passo davanti all'altro. Non uno più veloce, non uno più lento. Se si può non sbagliarlo, non scivolare, non metterlo sul sasso, così. E questo fino ai quattro quinti del libro. Poi l'ultima parte, mi è piaciuto invece farvi partire di corsa, io stesso partire di corsa, e d'altronde una parte che è legata a un altro personaggio, come scoprirete, quindi che ha un altro passo nella vita. Molto di più di Mr. Gwynn così brutalmente non mi verrebbe da dire. Sempre per la solita storia che parlare dei propri libri è una cosa su cui ho avuto sempre grossi dubbi. Il fatto che noi dobbiamo, non dico spiegare, ma anche solo chiosare quello che abbiamo fatto è una delle situazioni in cui noi ci troviamo, perché poi per molte ragioni tocca farlo. Ma in realtà continuo a rimanere dell'idea che se c'è qualcosa che dobbiamo ancora spiegare che voi non potete desumere dal libro abbiamo sbagliato qualcosa. Non mi va mai troppo. È vero che anch'io quando incontro gli scrittori ho delle curiosità, però devo anche dirvi veramente che gran parte degli scrittori di valore vero con cui ho avuto la fortuna di dialogare, incontrare così, sono sempre stati telegrafici. Non è mai che abbiano chissà cosa da dire su libri che scrivono. Vargas Llosa è l'unico in cui mi diverto, perché Vargas Llosa lui è il narratore per eccellenza, proprio sudamericano, non nel senso di Garcia Marquez, in un senso un pochino più europeo, ma è il narratore. Lui è il narratore prima ancora che ha scritto. E allora anche dopo, durante, prima, se tu gli dai il via gli dici ma quella storia, a me è molto piaciuto questo libro suo che si intitola Le avventure della ragazza cattiva, l'ho trovato bellissimo, la nina mala. Allora una volta gli ho chiesto ma sta nina mala l'hai conosciuta? Oh, partito! Con delle storie bellissime, però è un caso, ecco, però in genere invece una volta ho fatto un viaggio in pulma con De Lillo, vabbè che il mio inglese non è un granché, però insomma stavo cercando di fargli delle domande, non sulla poetica, per carità, ma insomma su alcuni pezzi di suoi libri. non ha mai detto una parola, faccia solo non una parola, forse pensava che non sapevo l'inglese per cui non era inutile, ma comunque però poi sono sceso dal pulma e ho pensato come era dignitoso quest'uomo che infatti è un uomo molto dignitoso, insomma sempre sospettare degli scrittori che parlano troppo dei libri. Allora, qui l'idea è di festeggiare anche firmando i libri che però per me non prometto niente, però è anche una delle pochissime occasioni che ho per vedervi in faccia e capire vagamente chi siete, non voi in particolare, ma sono quelli che leggono i libri e quindi andrà anche un po' a rilento perché voi mi mettono lì a cacchierare ogni tanto e cose del genere, però se avete pazienza, se no sono molto contento che siete venuti e vi ringrazio molto. Qui un attimo di pausa, mettono su un tavolo e poi lì con tranquillità ci mettiamo a firmare i libri. Buon Mr. Gwynn. Grazie che siete venuti. Grazie. Grazie.